Il primo turno playoff campionato Calcio 7 Open di fronte allo Sport Promotion Comasina, Gruppo Buco e FC Sciogno. Al settimo la sblocca Gruppo Buco con la punizione di Moscatelli non trattenuta dal portiere. Passano 7 minuti e Sciogno replica con l'1-1 di Mollo al termine di una ripartenza. Il pareggio dura solo pochi secondi perché Moscatelli calcia da centrocampo e trova la deviazione decisiva di un difensore. Poco dopo Sciogno sfiera il gol con un piattone di Drago che accarezza il palo. Al diciannovesimo 3-1 di Gruppo Buco sempre con lo scatenato Moscatelli che sfonda la rete dalla destra. Prima del riposo Sciogno torna sotto con il 2-3 di Mollo che sporca un tiro di salvo. Al tramonto del primo tempo la traversa nega il 3-3 al colpo di testa di Conte. Due minuti dopo Tarusha scheggia il palo su punizione. Al settimo fucilata di Drago su calcio piazzato è risposta miracolosa di Fragnelli. Il 3-3 è rimandato di un minuto e lo firma Falsetta che mette a sedere il portiere prima di saccare. Sullo slancio Sciogno va vicino due volte al vantaggio ma Fragnelli salva la porta su doppio tentativo di Drago. Prima di testa poi con un destro da fuori area. Al diciassettesimo ancora Drago protagonista ma il suo destro esce di un soffio. Nel finale break decisivo di Gruppo Buco con il 4-3 in contropiede di Michael Aroni. Poco dopo zampata finale di Moscatelli per il definitivo 5-3 e poker personale. Gruppo Buco prosegue così la corsa nei play-off dove nel secondo turno affronterà Real Milano. Allora eccoci qua con il man of the match di stasera Jacopo Moscatelli. Un poker prodigioso. Avete sofferto però alla fine la vittoria è arrivata. Sì abbiamo molto sofferto nel poker ma è andata bene anche il secondo gol che ci ha aiutato l'avversario ma ci vuole sempre un po' di fortuna. E questa volta qua ci è andata dalla nostra parte. E per il resto niente abbiamo sofferto perché comunque sul 3-1 poi ci ha recuperato. E tre pari ma abbiamo resistito, abbiamo tenuto fino a che abbiamo fatto il 4-3 e poi il 5-3. E niente, abbiamo finito, abbiamo fiscato la fine e ci è andata bene. Adesso la prossima. Perfetto, complimenti e buon calcolo alla prossima. Crepi.